Proteste a Maliseti per i ritardi nella consegna della posta, nelle ultime due settimane, segnalano diversi residenti della frazione, la corrispondenza si è fatta attendere con conseguenti disagi che hanno riguardato anche la locale parrocchia. Ai tempi del parruetto arrivava la dirigenza, una volta la settimana era scusabile. Qui manca anche la dirigenza, perché il giornale della settimana scorsa non mi è arrivato nemmeno oggi. Oggi un po' di posta, non è tutto quello che gli aspetto. E' inutile fare gli abbonamenti alle riviste se poi queste non arrivano. Questo vuol dire che loro creano dei disagi molto grossi. Come me anche tanta altra gente qui del paese dicono le stesse cose. Prima del 25 di aprile la posta arrivava normalmente un paio di volte la settimana. Dalla settimana del 25 di aprile non è più arrivata fino a questa mattina. E questa mattina abbiamo trovato del volume di posta abbastanza importante. In particolare questo può creare dei disagi, soprattutto per quanto riguarda le bollette. Esatto. Ora, chi doveva pagare direttamente alla posta o in altri modi pagherà in ritardo, perché le bollette sono arrivate veramente in ritardo questa volta. Poste italiane, da noi contattata per avere informazioni, si è detta disponibile a fare le proprie indagini sull'accaduto e a verificare le segnalazioni sui lamentati disservizi, fra cui anche quelli riconducibili a problemi di connessione all'ufficio postale di Maliseti. Io stamani sono andato a Maliseti, per esempio, dove volevo fare un versamento. Non c'era linea internet, è da ieri che non funziona niente. Alle poste di Maliseti? Alle poste, alla posta, al succorsale qui di Maliseti. Chiaramente sono dovuto andare poi in via Bologna e non c'erano le persone da far paura. Avevo 16 persone davanti e poi sono andato nei Ciliani e lì ho potuto fare, aspettando chiaramente un po' di tempo. Per fare un versamento ho dovuto fare un bel giro e perdere un paio d'ore buone. Mi sembra un disservizio.